salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di hot riders bene andiamo avanti a prendere o una cassa o salve lei stava aspettando vero e io qui mi metto qua questo da posto ok così sono coperto però il coso potrebbe fare mette carico anche lo prendo ok sono dietro sta facendo come la vedo brutta come la vedo brutta come la vedo brutta ok oh meno male cavoli andiamo blu vabbè lo faccio bastare ovviamente c'è arrivata tanta gente tanta tanta gente ok arriva anche da lì guarda che è ancora attivo quello allora qui c'è qualcosa che mi quadra porca vacca ok per la carica sono tutto morto oh santa miseria come l'ho vista brutta sono proprio cacata in mano questa sono proprio cacata proprio alla grande salve io posso prendere qualcosa delle munizioni grazie ok guardiamo se c'è qualcos'altro vediamo bene perché potrebbero uscire ovunque ok niente è la è che devo andare ma io vorrei guardare un attico che potrebbe esserci qualsiasi cosa non dovrebbe esserci più nessuno però non ci sa mai lo dico subito ecco qua cos'è non so cosa preso qualcosa ho preso qualcosa ce l'ho fatta io si ero dato sempre si ero dato andiamo via oddio so che bello che bello volevo farvi vedere da dove sono arrivato purtroppo non ce l'ho fatta comunque non era difficile dai si l'ho trovato abbastanza bene allora quello è ancora sparito ovviamente c'è solo l'ombra però va bene andi ah e vabbè c'è una nuova cosa non deve essere stato facile crescere con jacob che prova a farti da padre credimi lui era la parte migliore ah beh essere bambini in questa guerra ne ho sentito parlare posso immaginare no non puoi sai sai non sembri molto più grande di me ma mi hanno detto che come per magia hai saltato gli ultimi decenni davvero tu non hai nessuna idea di cosa significhi crescere in una carneficina infinita tu invece hai idea di cosa significhi guardare il tuo pianeta crepare oh cavolo scusami avrai perso i tuoi cari già come tutti eh va bene scusate fatemi vedere posso andare a dire tutto io non volevo parlare volevo parlare con sto coso no con lei come ho potuto parlare con lei andiamo oh non era neanche quello che dovevo parlare perché io non riesco più a parlare con quello la cioè dovete spiegare purtroppo non mi dice parla con e quindi non so con chi che sto sto interagendo e questo è un bel problema eh vabbè che ci volete fare adesso uscirò entrerò perché tanti bug si risuovono così questo gioco e quindi ci vediamo fra poco e miracolosamente è comparso ok ah non era lì e quindi eh ah io provavo andare qua ecco perché ed era qua comunque non c'era lo stesso va bene andiamo eh tut 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 è ora di andare blindato così andiamo un attimo qua perché dobbiamo andare qui dalla tipa io la chiamo Daisy che ricordo del Fallout 4 ma in realtà è un altro nome e vediamo cosa ci da vediamo un po' se non ricordo male era di qua spero che qualcuno mi avvesi eh mi sono già dimenticato era di qua ah eccolo si era qua ciao Daisy vai senza ricordi del passato si si va bene confezione di terra ma che cazzo terra proveniente dalla terra chiunque l'abbia portata non voleva proprio andarsene potrebbe essere l'unico vero rimasuglio di casa nostra salire a bordo della Flores non significava sopravvivenza certa sai dopo ciò che era successo alla Caravelle alcuni decisero di stare sulla terra e rinunciare al sogno di colonizzazione intergalattica magari avevano ragione almeno non hanno perso tempo a sperare ma allora 29 ma prendiamo dunque più che altro la mod mi interessa perchè la devo riprendere no penso che ho bisogno di prendere no penso che ho bisogno di questa ok grazie Daisy è stata molto gentile da parte sua e adesso finalmente possiamo andare a ehm dal tipo e cominciare a fare tutte le quest secondarie finalmente perché le varie dopo ci portano verso la fine del gioco io il gioco lo voglio finire facendo tutte le quest che è possibile fare secondarie quindi è ora di andare ehm siccome la comparsa del quest una qua volevo andare a vedere se riesco a trovarla eh perchè c'è anche il problema che non riesco a trovarla però speriamo se ce la faccio perchè come vedete non sempre le segna eh un bel problema un bel problema allora vediamo se me l'è segnata eh da qualche parte ehm voi la vedete io non vedo un cazzo ovviamente devo prendere la bandiera se no non vediamo niente ecco cosa ho fatto ah beh si la cosa di terra eh oh meno male c'è il mio miracolo allora la bandiera dovrebbe essere ehm la bandiera dovrebbe essere uh eccola ho visto la questa quella questa l'ho vista l'ho vista e qui e qui l'ho vista e qui oh mi dispiace tanto provo un massaggio qualcosa ok vediamo un po' stiamo andando in direzione giusta bell'arma dove l'hai presa? eh sapessi non è niente male tutti si approfittano della vecchia Atta ecco mi trattano da scema ma io non sono scema mi fa piacere per te oh chi va là? Pablo sei tu? no e meno male che non era scemo non sono Pablo perdonami tesoro sono Atta la vita è dura il mondo è crudele ho avuto altri ospiti da poco che mi hanno lasciata con l'amaro in bocca in che senso scusa? hai freddo? posso darti qualcosa? no stavo solo ciocchezze ho della zuppa calda in pentola ti prendo una tazza sono tutte vintamine allora vediamo un po' che dice prendo un po' di zuppa grata parliamo un pochettino va poverina se no ci sente sola una zuppa calda va bene ecco qui per te attenzione alle ossa tesoro che senso scusa? la zuppa scalda gli animi ma un ossicino può ucciderti eh esattamente come la vita insomma no no non è matta assolutamente è bravissimo assolutamente questi ospiti ti danno problemi? una giovane coppia disertori di guerra la donna era incinta non potevo certo lasciarli al freddo e al gelo no li ho nascosti alle autorità ho corso il rischio e come dicono sempre la cara vecchia atta è fin troppo gentile mi hanno derubata hanno il mio anello la collana le ultime cose che avevo della terra dei regali del mio defunto marito non voglio far loro del male mi interessa soltanto ciò che hanno preso darei davvero qualunque cosa per riaverli indietro sì accettiamo perché no? non ho di meglio da fare ah beh sì sì tanto insomma siamo qui per va bene gioielli di famiglia oh scusate non ho mai preso la questa gioielli di famiglia dove dobbiamo andare adesso vabbè non so seguiamo il nostro il nostro il nostro segnalino si vediamo poi lo mangiamo siamo a posto insomma sì dai ecco cosa odio dello stare qua mi fa tanto piacere per te ah quindi è proprio una zona nuova interessante e non è successo un cazzo però io non capisco allora fatemi rivedere ho preso qualcosa vedete dicevo che andavo proprio nella zona e ho detto me l'ha preso bene invece ha preso soltanto una cosa vabbè tutto segno cerco la coppia nella foresta devo andare alla foresta oh shanta pazienza alla foresta e vabbè mi farai vedere dov'è no la foresta la cava la foresta gioielli di famiglia ok andiamo pure qua e mi fai fare un bel giro però insomma non è proprio gentile da parte tua vabbè da una parte all'altra ci fa girare allora vediamo un po' quanta strada dovevo fare me la fa vedere con la mappa ovviamente no adesso ci proviamo eh però insomma eh po 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 porca miseria questa eh no e dove cazzo sarà qua scusate vabbè è tutto dritto dai ce la faccioniamo non dovrebbe essere difficile possiamo farlo anche a piedi dai uguale e a proprio due passi questa si fa in fretta cioè arrivare al luogo dico non a farla questa vabbè e basta dice sempre torno la questa principale io la principale non lo voglio fare adesso ok qui siamo allo sfogo e niente sono tornato indietro voglio potenziare un attimo la questa questa perché forse è meglio avanziamo di livello in fondo ce li ho e facciamo così e siamo a posto sono rimasti un bel po' almeno così fa 4.800 e almeno così siamo più tranquilli a proposito il cecchino me lo voglio portare dietro tanto quindi io potenziare anche il cecchino che quello è un cecchinazzo che mi piace tanto 16 16 sto pensando scusate eh riesco a trovarne 8 vediamo se riusciamo a trovare 8 item ne ho 6 porca miseria vediamo cosa succede eh questo cos'è questo era bello e questo qui così facciamo vediamo se ne riusciamo più di 8 riesco a meno 8 5 e possiamo fare 6 massimo se uno me ne desse 2 non mi dispiacerebbe affatto questo è 1.300 1.300 1.300 1.300 vogliamo vedere dai se ce ne da due siamo a cavallo ci ha dato uno 13 ne voleva qua ma ci sarei 16 ne voleva? niente eh vabbè avevo fatto quello che potevo vado la e ci vediamo fra poco ed eccoci qua adesso sarà sicuramente in modo molto diverso vai vai è così tac riuscivo così scusate poi questo così vai e adesso fa molto più danno ovviamente molto meglio adesso poi andiamo di cecchino vediamo cosa possiamo fare tac fanno tanto tanto danno perfetto data eccoci qua vediamo a tira su la capa tira su la capa oh ho preso quello dietro benissimo eh ecco qua se ti togli vedo quello dietro dai che cavolo lo salve è molto bello sa eh molto più danno adesso ok carichiamo vediamo un po' altri? no carichiamo sembrerebbe che vada molto meglio perfetto perfetto siamo sempre carichi di vita sta avvicinandosi qualcuno lo vedo lo vedo perfetto eh poverino ti piacerebbe farvi malo oh salve no no è andata ah ma adesso fino a qua arrivano tutti eh mi preoccupate perché mi sono bloccato porca miseria ovviamente sono andato la parte opposta vale vai perfetto è andata altri ci dice uno oh ma adesso ci divertiamo un pochino col cecchino oh c'è boh mi scivolato il dito eccoci qua adesso vediamo chi c'è qua sopra lo prendo volo quasi quasi che c'è la cappa c'è bohia se l'avessi potenziato troppo non ce l'ho fatta eccoci qua ho potenziato solo di uno altri vedete lo carichiamo vediamo un po' qui non c'è più nessuno posso prendere da qui lo stesso quasi 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 si ok vai perfetto abbiamo risolto il problema per dopo vediamo che ormai siamo vicini manca poco 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 rimancheranno due andiamo un pochino vedete che ce ne sono molti meno adesso non è una quest questa andiamo un po' ok perfetto altri mi stanno arrivando parecchi oh salve lei non me l'aspettavo sa per un cazzo ok oppla ovviamente non vedo un cazzo dovete scegliere proprio quel posto ok è morto altri? altri no perfetto andiamo un attimo qua a prendere il nostro dovuto perfetto eh chi è? 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 è qua è qua lo vedo noia sono velocissimi comunque eh bisogna dirglielo andiamo un po' eh io invece sono molto lento voglio essere sicuro eccoci qua posto fine possiamo andare eh esatto e abbiamo un nuovo luogo vedete che non potevo fare diverso ma per forza fare così ci siamo nuovo luogo prendiamo il nostro dovuto laggiù c'è una cassa sembra un accampamento ci ha fatto malo? perfetto però adesso ci giochiamo la giochiamo così eccoci qua ola Peppa vai bravissimo noi dovevamo andare qua in teoria però ormai siamo qua dobbiamo fare un po' di cose eh quanto pare se non amassiamo questo qua eccolo qui oh ciavoia una precisione da panico insomma questo invece per niente ok dai siamo messi bene scusate tac bellissimo e tac oh altri evidentemente si perfettico data ok ok perfetto data eh non ho preso questo eh ma ce n'è di gente da uccidere è una gioia per gli occhi insomma andate lì eh la più smalo quanti ci sono esatta mont ecco qua perfetto altri certamente che si alti alti perfetto vai 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 non ti preoccupare se questo non sbaglia ecco quello che ho apportizzato adesso cavolo qui ci facciamo un bel rifornimento e siamo un po' appunto a capo alti ne manca solo due abbiamo finito così possiamo andare a fare quella quest e prendere questa cassa cosa molto importante andiamo vedo qualcosa di viola va quasi blu va bene dove sono sono la da qualche parte quindi mi tocca andare a forza qua se no non saltano fuori vero e ma se c'è qualcosa qui magari un'altra cassa eh ma che ferro oh perfetto ok sono saltati fuori alla fine eh accidenti si però si è dato anche una mossa ok è andata andata accidenti ne sono altri e vabbè ci speravo questa è una zona nuova magari se ci fosse stata anche una quest magari c'è e non me ne sono accorto eh questo è possibile allora vediamo un po' effettivamente qui c'è tanta roba ok non vedo nessuno beh a parte questo ovvio ma vi preoccupate ma facciamo così siamo a posto questi sono estremamente veloci eccoli qua che sta sparando ah ma ce l'ho una ma sono tanto veloci ah ma adesso piano piano ovviamente ovviamente ecco qua ed ecco qua posto madonna ma ce ne sono ancora quanti c***o sono finiscono mai è andata è andata c'è anche un boss vedete ecco qui oh una quest vedete per questo che ho insistito ho detto vuoi che non ci sia un boss vedete che non ci sia una quest allora vai qua vai qua vai qua fatto sapevo che ce l'avevi fatta però che questo mi sta massacrando bastardo ovviamente dovrà caricare ok altri perfettico andiamo a vedere buon tender beh sarà interessante ci sto ecco qua perfetto e qui c'è un qualcosa da aprire fatto? allora e quindi dovevamo andare qua quindi ho fatto benissimo venire qui ma io però volevo vedere una cosa perché qui abbiamo finito adesso ci salutiamo eh vuoi vedere una cosa che avevo visto mamma mia quanta strada è stato bello farlo sul contento dai era proprio la strada giusta ero quasi deciletto magari non lo è e invece lo era qui abbiamo fatto abbiamo messo la bandiera no è fatto tutto e ragazzi dai ci salutiamo così nel prossimo video andiamo direttamente là quindi per questo video è tutto invito come al solito ci sono un like e un commento se mi piace la serie fammi sapere che le pensate e adesso ci vediamo sotto la cima ciao 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 ciao